Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, buonasera, puntata itinerante su un ascensore in particolare, rapidissima. Apple, sostanzialmente, sembra che abbia dato accesso a alcune funzionalità non date agli sviluppatori a zoom, cioè a zoom ha permesso, per esempio, di trasmettere in diretta, di accedere la telecamera, anche in modalità split view, quando praticamente si hanno due finestre sullo stesso schermo. Questa non è una funzionalità alla quale hanno accesso i programmatori, però, evidentemente, è una funzionalità disponibile che Apple, funzionalità nascosta, e già alcune erano state fatte per il Covid, per l'app Immuni, concordate, oltretutto con Google. Queste erano state proprio date solamente ad alcuni sviluppatori, uno per ogni nazione, non di più. E sono dei modi di gestire i sistemi operativi che sono inaccettabili, però stanno aumentando, e l'Europa, ancora una volta, lo ripeto, non ha un suo sistema operativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS